...mala femmina, promosso dalla giornalista Barbara Carrere, dal calciatore Giuseppe Della Corte, dedicato al mondo del cinema, della fiction e dello sport, madrina Liliana De Curtis, tra i premiati l'attrice Cristina Donadio per la sua interpretazione nella nuova serie di Gomorra e diversi protagonisti di Un posto al sole, di Made in Sud, come Nina Soldano, Mario Porfito, Maria Bolignano e Davide Marotta, riconoscimenti anche per Valentina Stella e Salda Vinci per il calcio, a ricevere il premio, il premio Mala Femmina, sono stati il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, il portiere del Palermo, Sorrentino, e il giovane talento dell'Under 21, Rolando Mandragora.